Al Bonolis alle ore 16 si gioca domani la sfida di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale di Coppa Italia. Il Città di Teramo riceve l'Aurora Alto Casertano e si riparte dal 2-0 a favore dei Biancorossi maturata a Benafro con le reti di Dos Santos e Rei. Tornano a disposizione dopo la squalifica Ferraioli e Massarotti in casa Teramo con il tecnico Marco Pomante che darà di nuovo spazio a chi finora è stato meno impiegato. I gol in trasferta avranno anche in questa fase peso maggiore e in caso di parità si batteranno i calci di rigore. Chi passa il turno affronterà il Terracina in gare di andata e ritorno il 6 e 13 marzo. Abbiamo visto domenica, noi siamo in grado anche di rovinare delle prestazioni dove alla fine il risultato è sempre acquisito. Noi dobbiamo andare in campo con un atteggiamento importante da grande squadra. Dobbiamo dimenticare la partita d'andata perché affrontiamo sempre una squadra che sta facendo bene il proprio campionato e prima in classifica adesso da domenica scorsa. Quindi dobbiamo andare in campo con la consipiolezza di avere una rosa forte e l'obiettivo è quello di andare nei quarti. È normale che io farò giocare ai giocatori che in questo momento in campionato stanno trovando poco spazio ma che hanno dimostrato nella partita d'andata di essere giocatori importanti. Se dovesse essere il diavolo ad accedere ai quarti verrà rinviata a data da destinarsi la sfida del turno infrasettimanale di campionato prevista proprio per mercoledì 6 marzo, ovvero il match del Bonolis contro la Renato Curiangolana. Difficile possiamo giocare tutte e due le partite insieme ma da quello che mi dicono pare che ci sia la priorità alla Coppa Nazionale quindi si dovrebbe spostare la partita di campionato.